10 milioni di dollari per la popolazione pakistana, in arrivo nuovi aiuti annunciati dal segretario di stato americano Anthony Blinken. Sono oltre 1.638 le persone che hanno perso la vita, 12.865 quelle rimaste ferite in Pakistan a causa delle piagge monsoniche che hanno colpito il paese in corso da metà giugno. Tra le vittime si contano anche 588 bambini e 332 donne. Sono oltre 33 milioni le persone colpite in 84 distretti danneggiati, 13.000 chilometri di strade e 410 punti.